Va bene, allora passiamo a Roberto Musacchio. Grazie, grazie dell'invito. Sono Roberto Musacchio, Transform, insomma però diciamo che mi sono occupato a lungo di queste tematiche in termini di ricerca culturale ma anche e soprattutto di loro ricadute politiche. Infatti su questo proverò un po' a misurarmi perché credo che la discussione teorica sia un patrimonio che è andata un po' disperso e ancora di più è andata dispersa la tendenza da parte dei corpi politici a fare questa discussione teorica. Io penso che la discussione sia di fondo, cioè noi siamo in una fase in cui rischiamo che le due classi in lotta abbracciandosi nella lotta vedano una sconfitta oramai da tempo, la classe operaia, e però l'approcciarsi di una comune rovina che ci sta sulla testa, insomma, che sta nella nostra vita quotidiana. È stato già detto, insomma, l'accumulo delle crisi è tali che possiamo tranquillamente parlare di un rischio di barbarie che stiamo vivendo. Ora, è chiaro che quando parliamo di decrescita parliamo di ambiente, parliamo di marzismi e così via, ma poi c'è una specificità di questa questione della decrescita che va affrontata in quanto tale, cioè l'idea che in qualche modo il terreno dell'abbraccio che poi consegna entrambe le classi in lotta alla barbarie avvenga intorno al tema dello sviluppo e che dunque bisogna rompere questa concezione, lo sviluppo, dice Latouche, parola tossica, che naturalmente acquisisce una determinata rilevanza dentro al capitalismo, ma che ha una filiazione più antica e che ha segnato una determinata forma della modernità. e quindi noi abbiamo bisogno di ripensare complessivamente, non in termini reazionari, ma al contrario di alternatività di visioni su quello che possa essere il moderno e il futuro. Questa risoluzione ha valore tanto più quanto attraversa, dicevo, i corpi vivi. Adesso ho visto la bella ricostruzione che ci è stata fornita di bibliografie, cerco di seguire più precisamente quello che ho vissuto anche nelle discussioni di questi corpi. Uno di questi è stato naturalmente il Partito Comunista Italiano. Se devo pensare a un avvio di questa discussione, penso già all'undicesimo congresso, quando, diciamo, tra Ingrao e Amendola c'era una discussione sostanzialmente sul fatto se il movimento operaio e il Partito Comunista dovessero essere coloro che favorivano l'avanzamento della modernizzazione anche sostituendosi ai limiti della borghesia o se, al contrario, bisognasse cercare, diciamo, un'alternativa di qualità dello sviluppo, del modello, un'alternativa di modello dello sviluppo, cioè se l'Italia è un esempio di arretratezza o di modernità. Peraltro io poi, nel corso degli anni, ho ritrovato anche discussioni interessanti da questo punto di vista, accuse fatte al Partito Comunista di essere una forza, per esempio, ruralista, perché aveva un'idea di sviluppo del Sud più legata all'agricoltura che allo sviluppo industriale o perché si contrappose per una fase, in meno in parte, alla questione della costruzione delle autostrade e quant'altro. Dovendo essere breve, situo, diciamo, la prima discussione organica che si fa dentro al Partito Comunista intorno a questo seminario che si fa a Frattocchie da parte dell'Istituto Gramsci nel 1971-1971 che dà luogo poi a questo libro quasi oramai introvabile che si chiama Uomo, Natura, Società, Ecologia e Rapporti Sociali. L'introduzione è la prefazione di Franco Ferri, ma sono l'introduzione di Giovanni Berlinguerra ed è un'introduzione che ha dentro quest'idea del modo alternativo di gestire l'economia e la società da parte del movimento operaio, maggiore complessità, un uso collettivo e giusto della scienza, diciamo, un'attenzione complessiva al valore di che cosa si fa economicamente e socialmente. Ci sono molti interventi, sarebbe interessante appunto ripercorrere, ritrovarli, insomma, questo è un lavoro meritorio che fa particolarmente la Fondazione Micheletti a Prescia che sta raccolto agli iscritti, ad esempio di Giorgio Neppi e Laura Conti, di Raffaello Misiti. Raffaello Misiti è uno di quelli che scrive dentro questo, che interviene dentro questo convegno, voglio però citare in particolare una personalità che non è stata citata fino adesso, che è quella di Giuseppe Prestipino che ci ha lasciato da poco, avrebbe compiuto cento anni adesso, che fa una relazione molto interessante a questo convegno, in cui cerca varie parti di Marse che possono avere appigli fondamentali per leggere la questione ecologica e in particolare ha due punti che considerano i grandi interessi. Il punto sulla questione dell'alienazione, in cui dice l'alienazione che le persone attraverso il lavoro capitalistico hanno rispetto alla propria esistenza e anche un'alienazione nei confronti della natura. E poi fa una previsione fondamentale per capire l'oggi, cioè che non è più solo la natura morta che entra dentro il ciclo capitalistico e rappresentando la parte viva, il lavoro delle persone, ma oramai in prospettiva ci sarebbe stato un inserimento dentro i meccanismi di accumulazione capitalistica dei viventi, della natura viva in quanto tale. Se pensiamo a quello che si sta verificando da ormai da tempo, attraverso la mercificazione dei principali cicli naturali e ambientali, ci rendiamo conto di questa previsione quanto fosse importante. Limitrofamente a questo convegno noi possiamo trovare i contributi di personalità che hanno rappresentato un punto importante nella discussione del Partito Comunista. di Giorgio Nebbia ci ha parlato Marino Lozzanetti. Giorgio era presente a questo convegno su Uomo, Natura e Società, in particolare sull'aspetto dell'acqua in quel momento, ma naturalmente la sua visione merceologica ha le caratteristiche di cui parlava Marino Lozzanetti. Laura Conchi, come Giorgio, come Prestipino, come altri che ho potuto conoscere e imparare da loro, è quella che inserisce di più elementi importanti come quelli del rapporto con il mantusianesimo, la questione demografica, e anche con la questione dell'agricoltura, ad esempio, considerando l'agricoltura, prima ancora dello sviluppo industriale, lo sviluppo dell'agricoltura come elemento propedeutico alla stanzialità della specie umana, diciamo il primo punto di rottura di fondo entropica degli equilibri ambientali. La capacità straordinaria di riprodursi che si determina con l'agricoltura e l'alterazione del suolo di questa parte fondamentale della biosfera che rappresentava dal suolo, che avviene con l'agricoltura via via massiva. Sono di quegli anni anche momenti importanti come l'Eliseo, il tema dell'austerità e del che cosa e come produrre, per chi produrre. Enrico Berlinguer, un ragionamento che sta come sempre su un crinale, insomma, da una parte questa necessità di affrontare e di trovare risposte profondamente innovative alla crisi energetica che c'era in quegli anni, nel 73, mettendo al centro le domande di fondo, e dall'altra invece poi un approccio che accompagnava una prima inversione delle scelte in senso moderato rispetto alla rottura che era maturata nel paese nel 68-69 dell'avanzamento della classe povera. Mi sentite sì perché io non ho nessun ritorno? Ti sentiamo molto bene, nitido. Grazie, grazie. Poi abbiamo una fase importante, vado per scaloni naturalmente, che è quella della discussione intorno al nucleare a cui io ho partecipato e che fu una, credo, straordinaria discussione di massa in cui in centinaia, direi migliaia di incontri nel momento in cui ci fu la presentazione di emendamenti contro il nucleare che entrò dentro il dibattito congressuale del Partito Comunista che fece una discussione di fondo su terminologie anche complicatiche che potevano essere, come dire, il carattere del rapporto tra l'energia e l'economia e la società, terminologie anche complicate, le tecnologie che si arroccano, i rischi stocastici e così via. Poi ci fu il ventesimo congresso del Partito Comunista che cercò di motivare in occhietto, con occhietto, lo scioglimento del partito in nome delle nuove contraddizioni della nostra epoca, così era l'incipit del congresso e che non casualmente trovò praticamente l'insieme del gruppo ambientalista, io ero responsabile nazionale della Commissione Ambiente del Partito, contrari. Erano contrari Giorgio Nebbia, Laura Conti. Ho ritrovato, grazie appunto alla Fondazione Micheletti, poi sono andato a trovarmelo sull'unità che fortunatamente è stata digitalizzata, un intervento sulla tribuna congressuale era il gennaio del 1991 che feci io insieme a Laura Conti, Massimo Serafini e Schettini, che credo fossimo membri del gruppo dirigente, per questo facemmo l'intervento insieme, che si titolava perché ci diciamo ambientalisti e comunisti e che era contro la svolta di occhietto, cercando di rintrecciare il rapporto della critica dei meccanismi, del modello di produzione capitalistica con un intreccio forte rispetto alla questione ecologica, quindi non con un uso strumentale come fu quello dell'occhettismo, dell'ecologia, ma invece al contrario provando a fare un vero processo di rifondazione comunista, perché così si chiamava la risoluzione che avevamo firmato. E vengo dunque proprio a rifondazione, gli anni che io ho vissuto, che mi hanno visto continuare a fare responsabile ambiente in quel partito, credo che sia stato l'unico partito che ha discusso direttamente del termine decrescita nel proprio organismo dirigente, in un comitato politico nazionale. Ora, Paolo Cacciari dispone di alcuni materiali che vorrei riuscisse a trovare il modo di socializzare, anche se sono solamente cartacei, di una federazione, non mi ricordo quale, che ha raccolto tutti i materiali che pubblichammo intorno a quella discussione che fu intensa, perché parlavamo in termini non approssimati del gioco delle parole, che cosa significa decrescita rispetto al sviluppo, recessione, rispetto alle terminologie che poi hanno significanza. Ricordo che scrivemmo su Liberazione, che purtroppo non è digitalizzata, io, ma per esempio, con una polemica anche con Brancaccio, credo che scrisse Alfonso Gianni, Patrizia Sentinelli, non so se Paolo stesso, insomma, mi ha detto che sono circa 140 pagine fotocopiate e quindi sarebbe utile farlo. Contemporaneamente, noi alimentammo una discussione, diciamo, culturale, anche con quello che avevamo a disposizione, cioè Liberazione, che per una fase ospita l'inserto capitalismo, natura socialismo, che era, diciamo, la versione italiana del lavoro di James O'Connor, grazie a Giovanna Ricoveri e a Rina Cagliardi, che ci lavoravano, ospitando, diciamo, molta della riflessione anche intorno alla seconda contraddizione che è stata prima riferita, ma si aprì direttamente una discussione sulla decrescita, e cioè sulla decrescita come alternativa allo sviluppo, come luogo dell'abbraccio tra le due classi in lotto. Ho ritrovato oggi, riguardando in preparazione di questo incontro, questa pagina di un inserto che facevamo dopo capitalismo, natura socialismo, che si chiamava l'insostenibile. Era volutamente il nome insostenibile perché volevamo dire che l'ambientalismo doveva essere insostenibile e non, diciamo, la ricerca della sostenibilità capitalistica, come poi fu. E questo, per esempio, è una cosa che ho curato io, c'era l'insostenibile sostenibilità dello sviluppo del gioco di parole, ed era una conversazione che ho curato io con Giorgio Nibbia, Carla Ravaioli e Sergio Latuscia. Purtroppo Giorgio e Carla non ci sono più, Sergio è ancora sì, per fortuna, e Latuscia fa anche polemica diretta, cioè dicendo, parliamoci chiaro, anche nel movimento alter globalista io ho difficoltà a introdurmi, a parlare e a rivendicare i termini della decrescita. Essendo noi, diciamo, impegnati a fondo del movimento alter globalista o contro la globalizzazione ed essendo questo uno dei primi movimenti che andava in contrapposizione a ciò che era dominante sullo sviluppo, non per condizionarla, ma per contestarne fino in fondo la natura, questa critica di Latuscia era particolarmente significativa. Ricordo che lo invitammo, lo feci io, a un dibattito alla festa nazionale di liberazione che fece con con Fausto Bertinotti condotto da Ritanna Armedia. Poi c'era un'altra cosa che curò Franco Russo che era una discussione ma la natura è matrigna e qui chiamo in causa il mio amico Paolo perché era una discussione tra Paolo Cacciari, Giorgio Nibbi e Laura Marchetti anche per dire che insomma affrontavamo questi temi siamo 15 minuti ancora un paio di minuti per dire che noi abbiamo avuto un corpo a corpo con l'ecologia dello sviluppo sostenibile cercando di orientarlo diversamente c'era un elemento di limite allo sviluppo che era alla crescita che era quello che veniva da Chiotto ma poi ha vinto l'ecologia di mercato con tutte le cose che conseguono e cioè ha fatto che la mercificazione è diventata dall'elemento dominante qui voglio solamente dire che noi abbiamo adesso due punti nuovi perché allora dicemmo molto non bisogna più crescere sulle questioni materiali ma possiamo crescere sulle questioni immateriali la comunicazione eccetera eccetera e io penso invece che adesso noi siamo di fronte a due elementi nuovi uno che la crescita enorme della digitalizzazione e della della conoscenza è tutta in mano al capitalismo e a quelli che Petrella giustamente chiama i dominanti con effetti terribili dalla finanza al controllo dei brevetti a quello che succede quando scoppiano le guerre secondo che noi rischiamo di avere una rottura della globalizzazione per vie geopolitiche che rischia di accumulare tutti i casini della globalizzazione a quelli della sua rottura geopolitica neoatlantica le cose che viviamo nel giorno per giù credo che dunque dobbiamo veramente avere un paradigma diverso alcune cose vengono avanti penso a quanto ha lavorato la società della cura ha fatto solo per titoli e o anche quanto viene dagli Stati Uniti cito l'ultimo libro Planet to Win che riguarda questo Green New Deal l'ecosocialismo come nuovo terreno di ricerca certo è che corpi organizzati che si muovono in questa direzione in questa fase fanno fatica ad esserci e questo è un grande problema grazie moltissimo grazie a tutti grazie a tutti